simon veil dall'ombra e la grazia desiderare senza oggetto la purificazione è la separazione del bene e della cupidigia scendere alla sorgente dei desideri per strappare l'energia al suo proprio oggetto là i desideri sono veri in quanto energia quel che è falso è l'oggetto ma strappo indicibile dell'anima alla separazione di un desiderio e del suo oggetto se si discende in se stessi si trova che si possiede esattamente quel che si desidera se si desidera una data persona morta si desidera un essere particolare limitato quindi necessariamente un mortale e si desidera quell'essere quell'essere che insomma quell'essere che è morto quel dato giorno a quell'ora e lo sia morto se si desidera del denaro si desidera una moneta istituzione qualcosa che non può essere acquisito se non in una o un'altra determinata situazione dunque lo si desidera solo nella misura in cui ora in questa misura lo sia la sofferenza il vuoto sono in casi simili il modo di esistenza degli oggetti del desiderio scostato il velo di realtà si vedrà che essi ci sono offerti così quando lo si capisce si soffre ancora ma si è felici giungere a sapere esattamente che cosa abbia perduto l'avaro cui è stato rubato il tesoro ci sarebbe molto da imparare l'anzun è il titolo di capitano dei moschettieri preferiva essere prigioniero e capitano dei moschettieri piuttosto che libero e non capitano sono degli abiti ed ebbero vergogna di essere nudi perde una persona cara si soffre che il morto l'assente sia diventato qualcosa di immaginario di falso ma il desiderio che sia di lui non è immaginario scendere in sé medesimi dove abita quel desiderio che non è immaginario fame si immaginano dei cibi ma anche la fame in sé è reale impadronirsi della fame la persona del morto immaginaria ma la sua assenza è reale questo è ormai il suo modo di apparire non bisogna cercare il vuoto perché sarebbe tentare iddio contare sul pane sovrannaturale per colmarlo non bisogna neppure fuggirlo il vuoto è la suprema plenitudine ma l'uomo non ha il diritto di saperlo l'ha provato cristo ignorando l'ha fatto una volta una parte di me deve saperlo ma le altre no perché se lo sapessero nel loro basso modo non sarebbe più vuoto il cristo ha avuto tutta la miseria umana eccetto il peccato ma ha avuto tutto quel che rende l'uomo capace di peccato quel che rende l'uomo capace il peccato e il vuoto tutti i peccati sono tentativi per colmare dei vuoti così la mia vita piena di impurità è prossima alla sua perfettamente pura ed è così anche per vite molto più basse per quanto io cade in basso non mi allontanerò molto da lui ma questo se cado non potrò più saperlo stretta di mano di un amico riveduto dopo lunga assenza non noto neppure se per il senso del tatto è un piacere o un dolore come il cieco se sente direttamente la presenza dell'amico la medesima cosa accade con le circostanze della vita qualunque esse siano con dio questo implica che non bisogna mai cercare una consolazione al dolore perché la felicità è al di là del rigno della consolazione e del dolore è percepita con un altro senso come la percezione degli oggetti con la punta di un bastone o di uno strumento è altra da quella che sia col tatto probabilmente detto quest'altro senso si forma spostando l'attenzione mediante un allenamento cui partecipano l'anima tutt'intera il corpo per questo si legge nel vangelo io vi dico che costoro hanno ricevuto il loro salario non ci deve essere compensazione il vuoto nella sensibilità trasporta al di là della sensibilità rinnegamento di san pietro dire al cristo ti resterò fedele voleva già dire rinnegarlo perché voleva dire supporre in sé e non nella grazia la sorgente della fedeltà fortunatamente siccome egli era un eletto quel rinnegamento è divenuto manifesto per tutti e per lui ma in quante altre persone avvengono simili vanterie ed essi non comprendono mai era difficile essere fedele al cristo era una fedeltà a vuoto molto più facile essere fedele fino alla morte a napoleone molto più facile per i martiri più tardi essere fedeli perché c'era già la chiesa una forza compromesse temporali si muore per quel che è forte non per quel che è debole o almeno per quel che essendo momentaneamente debole serbo un'aureola di forza la fedeltà napoleone quando era sant'elena non era una fedeltà a vuoto morire per quel che è forte fa perdere alla morte la sua amarezza e al tempo stesso tutto il suo valore supplicare un uomo è un tentativo disperato per far passare a forza di intensità il proprio sistema di valori nello spirito di un'altra persona supplicare il dio è il contrario un tentativo per trasferire i valori divini nell'anima propria invece di pensare più intensamente che si può i valori cui si è legati è un vuoto interiore